Domani Gianluca Festa, l'ex sindaco di Avellino. Dalla scorsa settimana i arresti domiciliari insieme ad altre due persone, l'ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e l'architetto Fabio Guerriero si troverà faccia a faccia nell'interrogatorio di garanzia con il GIP del Tribunale Irpino, lo stesso magistrato che ha firmato l'ordinanza cautelare su richiesta del procuratore capo di Avellino. Festa è al centro di un'inchiesta articolata su diversi filoni che lo chiama in causa insieme ad altri per presunti episodi di corruzione, concorsi truccati, irregolarità su affidamenti e appalti del comune Irpino ma anche per depistaggio, inquinamento delle prove e rivelazione del segreto d'ufficio. Non abbiamo una controtesi, spiega Luigi Petrillo, legale dell'ex primo cittadino perché non abbiamo una tesi della procura ma finalmente ci verrà data la possibilità di difenderci. Il penalista torna poi sul computer che nelle immagini allegati all'ordinanza, Festa avrebbe fatto sparire per ribadire che l'apparecchio era poco utilizzato dal sindaco e protetto da una password nella disponibilità di molti. Sulla divulgazione infine delle immagini riprese dalle telecamere fatte installare dalla procura nell'ufficio del sindaco, Petrillo denuncia. Sono state fatte uscire per rappresentare come per già certa la prova della responsabilità dell'indagato. Lo ritengo ha poi concluso un fatto molto grave.